Sì, ho detto così, che vai facendo con la minigonna? Cioè, che tipo hai di senso? Che tipo di senso ha? Eh, no, a me ha detto che tipo di senso hai di usare con la minigonna, penso a te. Ma io mi sono messa la minigonna, tu fatti fatti i tuoi. Brava! Però, pensa alla tua minigonna, non pensate alla mia minigonna. Pensa ai fatti tuoi. Beh, ma vai a tuonare, non è che prendi la mia minigonna, ma fatti i fatti tuoi. Brava! Io non è che posso stare sempre a pensare a te, perché... Pre... 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 Allora, non ha perso niente, mi ha guardato così, vede? Ma come ti permetti a dire così a me? Ma perché... Che io non sono bambina, sono una madre. Eh? Ha detto, ma... Ma per favore, che non sei una madre, sei una bambina. Ma... Ma fatti i fatti tuoi là, per favore. Non mi stai davanti all'occhio i miei, per favore. Quindi avete litigato di brutto, avete? Beh, mi ha detto, ma vatti invece. Ma poi avete fatto pace? No, ci sono le litigate di brutto. Quattro...